Quello del Barletta è stato un inizio di campionato disastroso. Un punto in tre partite solo perché Lascoli fortunatamente ha sbagliato un rigore all'ultimo minuto dell'unica gara pareggiata. Diversamente i biancolossi sarebbero ancora al palo. Tre giornate sarebbero certamente poche per cominciare a istruire processi se la squadra del presidente Tatò non fosse già riduce da un campionato penoso. Ai tifosi, per loro natura di memoria cortissima, la soddisfazione di aver conquistato la salvezza nello spareggio con l'Andria ha fatto dimenticare il calvario vissuto per tutto il torneo scorso. Inguaribili ottimisti, durante l'estate hanno fantasticato su un grande riscatto. Periodicamente televisioni, giornali e siti web hanno annunciato clamorose trattative e l'arrivo di autentici crack da Bogdani a Gennaro Del Vecchio. Naturalmente nessuno di essi è stato mai neanche lontanamente impredicato di venire a Barletta. Il problema è che non sono arrivate neanche le loro fotocopie. Indipendentemente da come il campionato proseguirà, crediamo sia arrivato il momento per il presidente Tatò di schiarirsi le idee una volta per tutte su quello che il Barletta deve diventare. Qual è la progettualità? Sinadore è stato un ibrido passato dallo spendere una fortuna su giocatori di categoria, rivelatisi spesso decotti e in qualche caso di dubbia moralità, per passare, lo scorso anno e questo, a puntare su giovani di capacità quantomeno discutibile. Qualunque sia la scelta, l'importante è che sia coerente e soprattutto condotta da collaboratori capaci e affidabili. Qui si apre il vero problema che è quello del direttore sportivo. Roberto Tatò da quando è presidente non ne ha imbroccato uno. Appena arrivato, mandò via Giuseppe Geria, l'unico giovane per il quale l'interesse della società e quello suo personale coincidevano. Geria, in piena ascesa, aveva infatti tutto l'interesse a far bene per farsi notare il più possibile anche da club prestigiosi. Per Tatò non andava bene e gli preferì Marcello Pitino. Le nostre dure critiche a questa scelta ci costarono l'ostracismo della società. Tatò lo difese a spada tratta, accorgendosi solo con grande ritardo che avevamo ragione noi. Oggi Geria lavora per la Juventus, mentre Pitino fu sostituito da Renzo Castagnini, Castagnini da Giuseppe Pavone e Pavone da Gabriele Martino. Tutta gente che, salvo Pavone, gli è costata una barca di soldi e che ha una caratteristica in comune, un grande futuro alle spalle. Martino è addirittura direttore generale con delega al mercato. Non è specificato che tipo di mercato, forse quello ittico. Tatò è libero di scegliere la strategia societaria. Noi continueremo a insistere su scelte che cadano su dirigenti giovani, che magari pagheranno dazi all'esperienza, commetteranno qualche errore, ma che hanno tutto l'interesse a fare quello della società più che il proprio, come è avvenuto talvolta in passato. Non è stanco il Presidente di avere quali collaboratori principali, gente bollita, che sta raschiando gli ultimi soldi della carriera, ormai fuori giro quasi, e che oltretutto sono di una insopportabile presunzione. Lo dicemmo per Pitino, lo abbiamo ripetuto per gli altri. Tatò, noto per la sua cociutaggine, ha sempre difeso le sue scelte, salvo poi cacciarli dopo aver ricevuto ulteriori danni. Prevediamo sarà cacciato anche Martino, noi auspichiamo presto, ma se la scelta dovrà cadere su un'altra cariatide, tanto vale restare così.